Il progetto è un progetto dal titolo Stairs Obsession, l'ossessione delle scale e in realtà è un lavoro sulla vertigine e sulla vertigine intesa come perdita di equilibrio che è fisico ma è anche emotivo, emozionale e quindi io in realtà qui si vedono delle scale però io non sto facendo un lavoro sulle scale ma sto facendo un lavoro sulla donna e sulla fragilità della donna nella perdita dell'equilibrio che è anche una metafora dei sentimenti. A proposito di questo ho estrapolato una frase da un famoso libro di Milan Kundera L'insostenibile leggerezza dell'essere che in tre parole dice poi esattamente quello che io voglio raccontare con questo lavoro ed è questo, era in preda ad un irrefrenabile desiderio di cadere, viveva in uno stato di costante vertigine. Ecco, con questa frase di Milan Kundera io credo di aver così espresso il significato di questo mio lavoro. Io ho assolutamente un occhio di Dio che guarda il suo piccolo essere umano appena creato poi in posizione fetale. Che bella questa interpretazione però che gli hai dato. L'hai fatta così a tu, questa la trovo tra le tue foto più belle, davvero straordinaria. Il taglio è un po' particolare, porta tutto lì, è una conchiglia meravigliosa, tanti piani di lettura. Tanti tanti, è vero. Mi complimento, bellissimo come sempre il tuo lavoro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.